Marchese, io assisto insieme all'avvocato Rizzo il consigliere Adamo il quale ha contestato tutte le ipotesi di accusa che gli sono state formulate, ha risposto alle domande che il GIP ha ritenuto di dover rivolgere anche il pubblico ministero e abbiamo depositato una memoria difensiva con numerosi allegati che affronta sia i problemi sotto il profilo della gravità indiziaria che sotto il profilo delle esigenze cautelari e abbiamo concluso chiedendo la revoca della misura in atto. Siamo fiduciosi nelle valutazioni del magistrato. Lei come si sente? Io sono sereno perché ho sempre svolto il mio lavoro correttamente e secondo coscienza.